La soluzione Microframes avanza, fa un po' quello che fa David, che abbiamo visto poco fa, in grande, all'interno di questo pannello, che in realtà è un pannello 60x60, che si può integrare anche nei classici controsuffitti, quindi con una lavorazione minima, facendoci arrivare solo un cavo di rete, di fatto, perché non ripari tutto l'audio e l'alimentazione forse da un singolo cavo di rete, quindi installazione, cavi di occhi molto limitati e magari per disposizioni già presenti nelle sale, a volte, insomma. Buonasera, sono Luca Battistelli di Brase Media Technologies. Siamo venuti oggi a questo roadshow per presentare delle soluzioni per la conferenza collaborativa, in particolare soluzioni, diciamo, invisibili che adottano la tecnologia beamforming e la prima soluzione è buy-up-devio, la seconda è MXA di show, sono soluzioni che permettono di risultare invisibili e quindi a collocarsi all'interno della sala conferenza che spesso viene progettata con motivi di estetica molto stringenti, ma che poi potrebbero essere rovinate dalle soluzioni tecnologiche, quali ai microfoni o altre tecnologie. In questo caso, invece, la soluzione risulta assolutamente idonea al contesto. Questa è una soluzione interattiva, nasce per gli ambienti, sempre di lavoro, quindi si potrebbero essere ritori assolutamente alle altre ruote di cui parlavamo prima, anche perché utilizza una tecnologie che si chiama adottica ultracorta, che permette di installare il proiettore molto vicino alla parete di proiezione, al di subito al di sopra di proiezione, ma non la vieta di installarlo addirittura a fare una proiezione direttamente sul tavolo installandolo in verticale sulla testa del tavolo. Quindi facilità di installazione, al di là di cosa significa ottica ultracorta, anche in questo caso facilità di installazione senza necessità di fare predisposizione per installare il proiettore al soffitto che come sapete richiede opportune distanze.